Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Benvenuti alla cerimonia in matrimonio di Roberto Tedesco e Patrizia Picciocchi. In questo giorno così speciale non soltanto coronerete finalmente il vostro sogno nel luogo che vi fa battere il cuore da sempre, ma avete regalato un sogno anche a tutti noi. Le vostre due anime gemelle erranti si sono incontrate. Questi anni vi hanno visti lottare con diverse difficoltà, ma la vita ha reso questo cammino così difficile affinché voi foste sicuri che la strada intrapresa fosse quella giusta. E adesso non potete più scherzare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.